Si prospetta sempre più chiara la volontà del Capo dello Stato di richiedere la non rieleggibilità. Giovanni Leone, come Antonio Segni, chiese la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica con l'eliminazione del semestre bianco. Lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro al Quirinale dedicato al ricordo del suo predecessore Giovanni Leone, scomparso vent'anni fa. Attraverso le parole di chi si sedette al Quirinale tra il 1971 e il 1978, Mattarella allontana la possibilità di restare altri sette anni al colle. La fermezza che dimostra il Capo dello Stato preoccupa i partiti, che nella maggior parte dei casi erano convinti della rielezione di Mattarella. Papa Francesco è giunto ad Assisi, dove incontrerà 500 poveri provenienti da tutta Europa in occasione della giornata mondiale a loro dedicata. Per la quinta volta nel corso del suo pontificato, Papa Bergoglio ha fatto visita alla città del Poverello, dove ha visitato le clarisse al monastero di Santa Chiara, prima di dirigersi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove era atteso da fedeli autorità. Il Papa ha percorso a piedi il sagrato che precede la Basilica, fermandosi a scambiare parole e sorrisi con i presenti, e regalando alcuni rosari ai fedeli, prima di essere accolto dal Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino. Una delegazione dei 500 poveri ha regalato al Papa un mantello e un bastone del pellegrino. Continua la crescita dell'incidenza settimanale dei nuovi contagi da Covid-19. Si è giunti ad avere 78 contagiati dal virus ogni 100.000 abitanti nella settimana tra il 5 e l'11 novembre 2021, quando la settimana precedente il rapporto era di 53 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. Sale anche l'indice RT di trasmissibilità calcolato sui casi sintomatici e supera stabilmente la soglia epidemica, passando dall'1,15 della settimana precedente all'1,21 dei sette giorni intercorsi tra il 20 ottobre e il 2 novembre. Lo evidenzia il monitoraggio della cabina di regia, i cui dati sono stati comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità. Aumenta anche il tasso di occupazione dei letti ospedalieri. Le terapie intensive sono occupate al 4,4% da malati Covid, mentre i reparti vedono un'occupazione del 6,1%. La regione a rischio maggiore è il Friuli-Venezia-Giulia. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cremona e Novara, su disposizione della Procura di Milano, ha dato esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di un'associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni ed al conseguimento di erogazioni pubbliche. Gli arresti e le perquisizioni condotte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento hanno consentito di sventare una truffa di oltre 60 milioni di euro relativa a indebite percezioni del reddito di cittadinanza, oltre 9.000 le persone denunciate. Gli arresti e le perquisizioni condotte nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento